Il corpo scelto per questa incarnazione. Punto F attraverso Francesca R a cura di VB, guida. Adesso, se volete, vi do spazio per le domande. Partiamo prima dalla stabilità che ho creato, dall'energia femminile. Vi specifico una cosa. Quando parlo di energia femminile e maschile, intendo un'energia determinata dalla scelta del cosmo incarnativo, non da come ci si sente. Ci sono donne che non si sentono donne. Ci sono uomini che non si sentono uomini. Uomini e donne che si sentono un po' uomo e un po' donna. Non è importante. L'energia sottile di cui parliamo in questi ambiti è quella data dal corpo fisiologico scelto, incarnativamente parlando, per permettervi di esperire un determinato cammino esperienziale. Guardate, questo discorso è molto importante. Perché può essere che a un certo punto, dopo che vi sarete stabilizzati, non può essere, è, accadrà. Io cambierò completamente la vostra disposizione per quello che voi siete veramente, un'energia femminile o maschile, che non è quella del vostro corpo incarnativo, ma è quella del vostro essere. Quindi adesso ci atteniamo all'energia esperienziale del corpo scelto per questa incarnazione. E a te questo concetto, domanda, è nuovo, guida, fatelo vostro per un momento, c'è da parlarne, molto.